buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di pano tv oggi è giovedì 22 febbraio 2024 passiamo attraverso dal manaco del giorno come facciamo tutti i giorni per oggi non si festeggia un santo ma si festeggia un'icona della fede cattolica ed è la cattedra di san pietro apostolo san pietro apostolo lo vediamo qui nella consegna delle chiavi di un noto quadro quello del perugino ebbene la cattedra di san pietro apostolo è costudita nel nella chiesa di san pietro a roma in vaticano ma in realtà non è una cattedra non è una sedia su cui si è seduto il principe degli apostoli è un manufatto che risale al nono secolo e fu donato a papa giovanni ottavo dal re dei franchi carlo il calvo che era sceso a roma dalla francia per essere incoronato imperatore ebbene fu poi questa statua inglobata in tutta una costruzione scenografica realizzata da gian lorenzo bernini la qua il quale la contornò delle figure dei quattro dottori della chiesa dei quattro principali dottori della chiesa che sono sant'agostino sant'ambrogio sant'atanasio e san giovanni crisostomo quindi se andate in vaticano non mancate di vedere questo bellissimo manufatto colbato la cattedra non si vede però insomma tutto l'apparato veramente è una cosa meravigliosa ed è dietro il baldacchino dello stesso bernini vediamo ora le previsioni del tempo ecco qui la grafica che cosa ci mostra la grafica stamattina vediamo una giornata che sarà in prevalenza stabile ma con nubi in graduale aumento nel corso del giorno c'è un vento di garbino di rinforzo tra pesaro e urbino quindi lì il vento sarà un pochino più teso la direzione è quella di sud da sud nella costa e da sud ovest nell'entroterra le temperature si sono alzate la minima è di 10 gradi la massima è di 17 insomma una temperatura veramente anomala per la nostra stagione il sole sorge alle 7.04 siamo proprio in questo momento se guardate fuori della finestra dovete vedere i primi bagliori e tramonterà alle 17.44 il mare è leggermente mosso ci ho detto passiamo alla lettura dei giornali questa mattina e partiamo dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano vediamo che l'apertura è dedicata alla politica perché ieri sono state formalizzate le primarie le elezioni primarie da parte del centro-sinistra elezioni che si terranno il 7 aprile saranno aperte a tutti che vorranno votare chi vorrà prediligere il candidato sempre del centro-sinistra i 4 candidati sono stati presentati ieri in un locale di piazza 20 settembre a Fano c'era anche il mercato quindi c'era anche tantissima tantissima gente dal segretario del partito democratico Renato Claudio Minardi il quale ha detto precisamente il nostro avversario è il centro-destra ha ignorato quello che è a sinistra ha detto però che ci sono sempre le porte aperte vedremo se queste porte aperte riusciranno a far passare qualcuno ci saranno delle relazioni intermedie tra l'una e l'altra parte oppure rimarranno aperte ma vuote di contenuto comunque i quattro candidati sono veramente determinati faranno una campagna elettorale determinata però nell'unità anche questo concetto è stato molto ribadito nella conferenza stampa di ieri il centro-sinistra è unito si divide soltanto nelle quattro personalità che ovviamente cercano cercheranno di fare valere il loro operato il loro carisma e insomma la loro funzione e chi sono lo sappiamo tutti questi quattro candidati vediamo che da parte del partito democratico è Cristian Fanesi attuale vice sindaco da parte di più Europa Cora Fattori le liste civiche hanno nominato Etienne Lucarelli e poi abbiamo da parte della lista civica in comune Samuele Mascarin che è stato il promotore delle primarie e ieri ha detto che finalmente dopo tanti tanti mesi di determinazione di lotta per ottenere questo risultato ieri è apparso particolarmente emozionato questo è un po' un sunto di quanto è accaduto ora ci starà una campagna elettorale interna centro-sinistra però insomma tutti quanti poi potranno indicare anche quelli che non fanno parte del centro-sinistra potranno indicare chi dei quattro candidati potrebbe diventare sindaco della città di Fano ed ora passiamo alle altre notizie perché ieri c'è stata una importante a mio parere conferenza stampa tenuta dall'amministrazione comunale che ha fatto il punto su tutto il sistema di videosorveglianza della nostra città sono tantissime le telecamere che guardano, che immortalano, che registrano il transito dei veicoli ma anche problemi di ordine pubblico e questa duplice valenza dell'impianto di videocamere che è stato installato a Fano è stato veramente evidenziato ieri dall'assessora alla polizia locale Sara Cucchiarini e dal comandante della polizia locale a Narita Montagna insieme ai suoi agenti c'erano anche i vicecomandanti, c'erano gli operatori che sono addetti proprio al controllo delle videocamere pensate quante sono in città, sono la bellezza di 100, vediamo un attimo, 64 mi sembra sono tantissime, sono veramente tante 165, 165 apparecchiature più altre 40 legate ai cantieri pubblici in corso di realizzazione e poi ce ne sono altre, insomma sono fisse, mobili, hanno la capacità di leggere le targhe delle autovetture ma anche la capacità di puntualizzare l'immagine su tutti i passanti, su tutte le persone che vengono inquadrate dalle telecamere vengono quindi analizzati i vestiti, i tratti somatici sono molto utili per le indagini, per qualsiasi evento di ordine pubblico che si determinasse e abbiamo un grande apparato di sorveglianza molto utile appunto per cercare di contemperare le esagerazioni e pure le infrazioni alla legge e anche al codice della strada in modo particolare, una volta erano soltanto sei e non funzionavano dieci anni fa ora veramente è stato esteso anche in modo tecnologicamente molto molto avanzato questo apparato di video sorveglianza e grazie ad un'antenna che è stata installata a Montegiove, un'altra poi ne sarà installata a Monteschiantello ci sarà un trasferimento virtuale tra le telecamere e la centrale operativa che è insita nella sede della polizia locale qui un operatore potrà contestualmente avere la visione di tutti gli aspetti della città che sono controllati quindi una cosa veramente molto molto utile e importante e allora guardiamo anche l'incidente che si è verificato ieri ormai ogni giorno ne capita uno un'auto si ribalta sulla statale e una donna rimane ferita è accaduto questo incidente alle 14.45 sulla statale Adriatica nella zona di Torrette ferita una quarantenne residente a Melicucco in provincia di Reggio Calabria la donna è stata trasportata in codice giallo quindi non è in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce l'incidente è stato provocato sembra da una Volkswagen Golf che stava viaggiando verso Marotta all'improvviso la conducente ha perso il controllo del mezzo che ha invaso la corsia opposta e ha urtato il cordolo al margine della strada e quindi si è capottata insomma ha fatto tutto da sola ed ora passiamo ad un'altra notizia che riguarda la città di Fano sempre di cronaca eccola qua otto furti in pochi giorni al nono ho preso il ladro è un cinquantenne che è stato bloccato e denunciato dalla polizia nel mirino una gastronomia una rivendita di cibo della Sassonia ebbene era un ladro seriale insomma tutti i giorni andava lì si riforniva di cose prendeva bottiglie di birra e altre cose e poi se ne andava per otto volte gli è andata bene alla nona invece è stato preso è stato bloccato identificato dal personale del commissariato che di conseguenza e poi è stato denunciato per il furto aggravato Flaminia asfalto degradato subito un nuovo manto questo a Fossombrone l'osservatorio cittadino chiede anche la realizzazione dei sottopassi pedonali si tratta del tratto della Flaminia che attraversa il centro abitato di Fossombrone che versa in uno stato di ammalaroamento che ormai non è più accettabile a Serra Santabondio invece partono i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sarà pronto in 120 giorni a Poggetto consegnato il cantiere alla ditta che dovrà realizzare questo manufatto sul Cesano opera al servizio di alcuni residenti che si trovano appunto sul posto e vediamo anche la pagina di Senigaglia dove si parla di gastronomia ma di gastronomia quella di qualità quella stellata quella degli chef gli chef stellati scaldano i motori e Cedroni si ispira a Marco Polo ebbene ce ne sono diversi di chef stellati che valorizzano la gastronomia a Senigaglia gastronomia intesa non solo come mangiare bene mangiare salutare ma anche come promozione turistica perché c'è tutto un giro di vacanzieri che amano passare le loro vacanze nelle città dove si mangia bene e si mangia soprattutto si mangia cibi di ricette locali e Senigaglia è uno di questi menù Venezia-Pechino per la Madonnina apre lunedì da Uliassi il Lab24 stasera invece in TV Masterchef a Senigaglia quindi addirittura una promozione nazionale e poi vediamo invece che a fondo pagina abbiamo una notizia squallida una svastica sul selciato di piazza Garibaldi e la seconda dopo quella comparsa su un'altalena a Montemarciano evidentemente c'è qualcuno o un gruppo di persone che insomma fa queste cose e certo ideologicamente sono condannabili vediamo anche le pagine di Pesalo che il Corriere Adriatico dedica al capoluogo si parla delle opere compensative che dovrebbero essere realizzate dalla società autostrade in merito alla terza corsia e vediamo che il casellino di Santa Veneranda passa in coda manca ancora un via libera di carattere ambientale si attende che il ministero dia la sua valutazione di impatto ambientale però passano davanti quindi sono prioritari sia la bretella di Santa Veneranda e il raddoppio dell'urbinate quindi altre strutture che possono ovviamente supplire alle esigenze del traffico del capoluogo convertiti in aree agricole e spazi verdi terreni estesi come 140 campi da calcio è una decisione questa assunta dall'amministrazione comunale di Pesalo ed è stata attivata una procedura per modificare altri 6 ettari di terreno in green quindi in verde in totale sono 124 quelli trasformati in suolo coltivabile quindi c'è una riconversione del territorio pesarese in una situazione dove non si può ovviamente costruire e invece vediamo che il nuovo campo di Villa San Martino verrà riqualificata una struttura storica la società di calcio che lo gestisce conta ben 30 allenatori 400 tesserati e 18 squadre ricci un luogo di crescita è veramente una operazione finalizzata al coinvolgimento dei giovani soprattutto perché lo sport poi aggrega e insegna anche un'etica che li distoglie da altre cose insomma non buone vediamo anche un altro articolo che riguarda la pagina di Urbino eccola qua Cagollino riaprirà a marzo lavori sulla strada Le Conce è stata stabilita un'intesa a questo riguardo tra la regione e l'ANAS tramite il comune di Urbino per installare un senso unico sulle due arterie ebbene la galleria chiusa dopo la strage che purtroppo ha causato quattro morti ve la ricordate la strage di dicembre dove sono morti anche gli occupanti non solo il degente ma anche gli infermieri medici che erano sull'ambulanza un'ambulanza del 118 ora è precario il percorso alternativo e si cerca di ristabilire la viabilità in questa galleria al più presto possibile vediamo ancora le altre pagine che riguardano che riguardano sempre Urbino abbiamo visto prima quella di Pesaro Riceci il sindaco favorevole Forza Italia che fa ebbene la discarica di Riceci acquista sempre spazio sulle croniche dei giornali oggi abbiamo un interrogativo dell'Assemblea contro la discarica un atteggiamento retroverso è stato dichiarato su Riceci poca coerenza ha detto Francesco Veterani che è portavoce dell'Assemblea permanente dei cittadini contro questa realizzazione e la polemica continua ed ora chiudiamo chiudiamo il Corriere Adriatico e apriamo il resto del Carlino ebbene sul resto del Carlino abbiamo una vicenda che è presente anche sul Corriere Adriatico che riguarda gli scavi archeologici di Piazza Andrea Costa questa zona molto molto sensibile dal punto di vista storico archeologico della città di Fano a pochi centimetri dalla superficie evidenzia tutti gli strati che si sono sedimentati dall'epoca romana ai giorni nostri abbiamo mura romane è stato trovato anche un pavimento in opus spiccatum che sarebbero quei mattoncini che vengono posti a spina di pesce e poi un grande edificio le mura di un grande edificio che non si sa se si estende su tutta su gran parte della piazza oppure sono ambienti separati che appartengono a più edifici ancora le ricerche sono in corso un pozzo un pozzo che potrebbe essere di età medievale e poi e poi le tombe ebbene tra le tombe che sono state trovate due bambini un adulto ce n'è una di particolare commozione direi oltre che di importanza la tomba di una mamma che stringe al petto il suo bambino ed eccola qui su questa foto la tomba della mamma che stringe il bambino vediamo qui esattamente la mamma che si rivolge al bambino questa è la testina del bambino qui le braccine e questa la spina dorsale non so se riesce a vedere comunque la terra un po' ricopre queste povere ossa è una immagine che ha destato la commozione anche degli archeologi non si sa a che epoca appartiene probabilmente all'alto medioevo medioevo 800 900 dopo Cristo probabilmente oppure forse in epoca più antica e che cosa ha determinato la morte di questa mamma con il suo bambino è tutto da ricercare non dovrebbe essere una morte di parto dato che il bambino è sviluppato quindi ha un'età superiore proprio a quella della nascita forse una malattia forse un incidente forse qualcosa che è accaduto all'improvviso non si sa non si sa comunque le ricerche continuano ebbene tutti coloro che vorranno saperne di più degli scavi di piazza Andrea Costa potranno essere presenti prenotando la loro visita sabato prossimo dalle 15 alle 19 in piazza Andrea Costa dove ci sarà un open day organizzato dall'assessora Barbara Brunori insieme agli archeologi che hanno avuto l'appalto dalla soprintendenza che stanno facendo le ricerche spiegheranno a tutti i visitatori che cosa hanno trovato e i fanesi potranno sapere di più qualcosa della loro città un po' come è avvenuto con gli scavi di porta maggiore emozioni in piazza costa riaffiora dopo mille anni l'abbraccio di un bimbo e veramente fa molto tenerezza l'occhio di 165 telecamere su di noi individuati 37 pirati della strada l'amministrazione e la polizia locale snocciolano i dati in arrivo poi nuovi dispositivi nelle zone più periferiche quelli che ne sono privi insomma i paesini dell'entroterra le frazioni i quartieri ormai l'occhio del grande fratello si estende su buona parte della città abbiamo il 90 95% della città che è controllata però ancora ci saranno anche altre telecamere e poi mancano quelle della ZTL perché il progetto che è stato così previsto inizialmente ancora non è stato attuato e i varchi della ZTL ancora non sono controllati ma come dicevo le telecamere non servono soltanto per vigilare sul traffico ma anche per servire e per aiutare le altre forze preposte al mantenimento dell'ordine pubblico a così coltivare le loro indagini ruba per otto notti di fila nello stesso locale alla fine la polizia denuncia un cinquantenne fanese come dicevo portava via all'insalatiere quattro birre alla volta e poi il 7 aprile le primarie del centro-sinistra alla fine prevale la linea mascarin che aveva così chiesto che fossero realizzate le primarie ben undici mesi fa undici mesi di convincimento di determinazione di richieste continue alla fine mascarin la sfangata e qui vediamo i quattro candidati e poi vediamo una bella notizia è stata diramata tramite una conferenza stampa dalla curia stessa qual è il nuovo stemma del vescovo di Fanomo signor Andrea Andreozzi il nuovo stemma rappresenta il valore di tutto il territorio entroterra compreso eccolo qua il nuovo stemma ed ora in avanti lo vedrete affisso accanto al portale del Duomo insieme a quello del Papa uno scudo azzurro sovrastato da una mitria d'argento ornata d'oro lo vediamo qui la mitria ornata d'oro eccola qua ornata con le bende dette infule svolazzanti eccole qua queste due queste due bende svolazzanti foderate di rosso bordate di frange dorate dentro lo scudo invece altre tre mitrie d'argento una due e tre eccole qua le due in alto ornate d'oro con le bende frangiate dello stesso colore vedete come sono diverse rispetto alla terza quelle in basso allo stesso modo ma tinta di rosso nel mezzo un ramo di palma d'oro si vede poco qui ma è nel mezzo e al capo un punto d'argento una stella a sette punte anch'essa di colore azzurro ed eccola qua la stella con tinta d'azzurro un nuovo stem distintivo della diocesi di Fano Fossombrone Caglie Pergola che è stato un punto scelto dal nuovo vescovo questo cartello occupa tutto il marciapiede Amarotta Bonaccorsi segnala i tre pali che lo sostengono diventano una barriera per carrozzelle e passeggini e c'è una lettera al prefetto insomma un cartello che è stato messo nel mezzo di un marciapiede impedisce il transito in modo particolare dei disabili via le barriere architettoniche non dovrebbe essere l'amministrazione comunale o chi per essa l'ANAS eccetera che ci mette i cartelli in mezzo e quindi impediscono il passaggio il tecnico ANAS ha confermato che il posiziamento non è corretto ma nessuno ha fatto ancora nulla insomma questo cartello che vedete qui è da rimuovere e poi la fortuna ha baciato una giocatrice un giocatore anche di Marotta si tratta di un sessantenne della zona che ha vinto ha vinto parecchio ha vinto 124.750 euro e ha puntato quattro numeri sulla ruota di Genova che sono usciti tutti 54 57 61 e 80 è veramente un colpo di fortuna eccezionale galleria incendiata e parliamo sempre della galleria dove è accaduto l'incidente di dicembre scorso galleria incendiata il traffico riprenderà però solo a senso unico l'ANA si impegna 4 milioni di euro per il ripristino del traffico normale della normale circolazione i lavori saranno necessari fino al termine del 2024 dell'anno in corso e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento per le notizie del giorno alle ore 20.30 con il TG occhio alla notizia di Fano TV e per la rassegna stampa domani alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci e per la rassegna stampa